facciamo una ragazza perché fai l'uomo scusami vedi 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 un po' vedi 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 dai ragazzi buonasera buonasera iniziamo questa live siamo in live ragazzi eccoci dopo qualche giorno di assenza siamo tornati ragazzi con novità incredibili siamo tornati eccoci giornata di forte pioggia qui sulla capitale ma siamo qui presenti ragazzi sempre presenti aspettiamo che si collegano tutti gli amici e poi andiamo con i saluti dai ragazzi dai 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 iniziamo turbino buonasera giuseppe buonasera ragazzi dai dai iniziamo con qualche like qualche mi piace qualche like questa splendida pagina buonasera vi facciamo sognare ragazzi vi facciamo sognare gratuitamente volentemente abbrue rupa buonasera robertta buonasera andrea buonasera shairo buonasera piero buonasera fiore buonasera vincenzo buonasera dai ragazzi iniziamo a caricare questa pagina di like iniziamo 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 dai andiamo di la pagina iniziamo anche il nostro concorso a premi dove premiamo tutti i nostri follower coloro che quantomeno interagiranno con noi condivideranno la diretta metteranno più like a fine serata noi diremo chi ha vinto i nostri fantastici gadget in questi giorni abbiamo spedito i gadget a coloro che li hanno vinti nelle passate dirette bene sono stati molto contenti e ci hanno ringraziato ci hanno ringraziato di questi nostri giallo fantastici like quindi ragazzi dai potete vincere anche voi andando di like condividere le nostre dirette dai su 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 fate come il buon stefano dai andiamo andiamo ci ribandano sei matto dai chi c'è collegato dai salutiamo un po qualche città dai che città ci sono dai iniziamo iniziamo andiamo sotto con i commenti ragazzi andiamo sotto con i commenti a salutare lì città vm design ciao caro buona serata ciao cristian ciao piero ciao leonardo catanzaro salutiamo cicottoni da catanzaro eh tutti gli amici di catanzaro li salutiamo li salutiamo quindi abbiamo al momento che ha risposto presente catanzaro poi chi abbiamo chi abbiamo dai ragazzi collegatevi andiamo andiamo di like andiamo di like vedo ancora zero like non vedo cuoricini sulla diretta male 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 ragazzi molto male dai su like 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 riempiamo lo schermo di like al momento catanzaro solo catanzaro sta scrivendo sui commenti dm design da dove ci scrivi dai andiamo a salutare la tua city ciao Gepal buona serata ragazzi in basso a destra condividi anche la diretta e mi raccomando premi e gadget per i follower migliori della serata fine fine diretta diremo il vincitore il vincitore il vincitore stasera abbiamo in palio i soliti nostri fantastici gadget firmati affari sbullonati ragazzi è facile vincere basta andare di like di condivisioni ragazzi su 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 ore 17.53 sulla capitale ragazzi davanti alle nostre bellezze vi riscaldiamo in questa serata oggiosa e fredda di dicembre ciao antonio ciao schumi guardate guardate che lavoretti che lavoretti dai ragazzi di like su 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 dai 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 ragazzi su 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 in questa serata fredda e oggiosa sulla capitale riscaldateci a suon di like ragazzi in basso a destra andiamo anche con le condivisioni condividi la diretta ragazzi allora ricordiamo che ci sono gadget previsti per i migliori follower della serata ragazzi coloro che interagiranno con noi metteranno più like più cuoricini e più condivisioni ragazzi a fine diretta vinceranno i nostri fantastici gadget magliette portachiavi calendari fantastici di affari sbullonati ragazzi salutiamo giuseppe jacobs elisa nicola attilio peppe roberto maurizio francesco ciccio ma andiamo a salutare anche qualche città ragazzi da dove ci state seguendo dai andiamo a salutare al momento ci ha scritto catanzaro da catanzaro abbiamo catanzaro presente poi chi abbiamo quale altra città italiana è presente ma non solo italiana perché ci seguono un po' da tutto il mondo bene quindi andiamo a salutare qualche city chi c'è collegato chi c'è chi c'è andiamo ragazzi andiamo giuseppe buonasera naples buonasera napoli roberto da napoli salutiamo tutti gli amici napoletani salutiamo alessio da morolo frosinone bene tutti gli amici di morolo salutiamo marcello da brindisi dalla puglia la bellissima puglia bene ragazzi bene vedo vi state collegando ricordiamo a tutti coloro che parteciperanno alla nostra diretta a fine diretta diremo i vincitori dei nostri gadget eh i vincitori saranno coloro che metteranno più like più condivisioni e ovviamente a fine sera diremo chi ha vinto bene le cinte ordineremo anche le cinte domenica domenico sei in diretta toc toc Francesco pronto c'è qualcuno in diretta che ci segue andiamo di cinghia quindi stai montando una fantastica cinghia bravo 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 ragazzi dai marcello dai con i like andiamo di cuoricini riempiteci questo schermo di like e di cuoricini stiamo lavorando per voi al freddo e al gelo sprezzanti di ogni condizioni meteorologiche avverse oggi l'ha fatta tanta ragazzi tanta acqua tanta acqua bene bene vedo 20 like ragazzi è 21 ma dobbiamo raggiungere quantomeno i 10.000 like se no che stiamo a fare che ci facciamo con mille like dobbiamo arrivare a 10.000 like questa sera perché il nostro standard è 10.000 ragazzuoli eh ragazzuoli il nostro standard è 10.000 eh marcello è molto attivo questa sera marcello è molto attivo se al momento si piazza tra i numeri uno dei follower che sono candidati alla vittoria finale e io tu 0 0 tu devi pensare alla cinghia alla piccola cinghia della dinamo ah che bella che bella eh no sto dicendo la macchia quanto sei bella ragazzi 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 dai su 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 mi chiamo di like di like di like tranquillo a te te conoscono solo da dietro te conoscono se te guardano in faccia a te non te riconoscono invece da dietro te riconoscono ormai ciao carmine buonasera carmine no Gaspare sta su Facebook anzi tra un pochino ragazzi andiamo in diretta per gli amici di Facebook facciamo una direttina agli amici di Facebook di Facebook se sei costruito non hai preso sto coso ciao Cristian vedo che stai facendo lavoro veramente di nicchia ma questo serve per stappare le bottiglie ma sto coso è dell'epoca di nonno un dosi piano è una bordatrice è una bordatrice ma funzioneria sta cosa ragazzi guardate che attrezzatura che attrezzatura vintage che abbiamo ma quella è stata arrivata oggi quella che c'è stato comprato in America ah quella famosa dove l'ha? quella l'ho comprata ma questa che farebbe in poche parole? è utile? fresca? fresca? sono queste qua questi pezzi fuochi che ripetono mi sembra che qua in Italia ormai c'è stata una ormai ragazzi guardate che attrezzatura proprio da da un vecchio battitamiera proprio questa c'ha qualche annetto su sta cosa e ancora la famosa vabbè alla fine è quella sì perché c'è stato un modello questa è stata una più corta e questa è quella più corta che fa sempre un'essere su una certo tanto sta cosa c'è un po' di pazienza nell'assemblaggio no bisogna svitare l'assemblaggio ciao Pietro ciao Cristian ciao Salvatore dai ragazzi qualche minuto e poi ci spostiamo sulla pagina Facebook facciamo una direttina anche per gli amici di Facebook nel frattempo dai andiamo in chiusura con qualche like mi raccomando ragazzi andiamo in chiusura a qualche like e diremo il vincitore della diretta di questa sera caro Salvatore bene bene vedi c'è qualcuno che conosce questi attrezzi vintage del mestiere buono non sei l'unico matto eh bene bene dai Marcello per il momento è il follower numero uno che sta da inizio serata sta sta condividendo sta mettendo like dai quindi il nostro Marcello è il follower che al momento si sta giudicando i nostri gadget i nostri gadget dai ragazzi qualche minuto andiamo di like andiamo like 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 dai dai qualche altro like prima della chiusura della diretta diretta ore 18 e 3 86 like bene bene saliamo un pochino non è male 207 bene come si sale subito 207 like ragazzi abbiamo avuto un escalation immediata di like 300 like bene molto bene no potevamo montare prima tanto un po' a frangere ma quanto sei bravino con queste manine 500 like quasi ragazzi bene bene vi siete svegliati o si è svegliato TikTok si è tenuto i like ci sta dando piano piano ciao franchino salvatore buonasera francesco buonasera luigi buonasera vedi 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 questo TikTok piano piano ci sta dando i like siamo arrivati in un attimo a 826 da 0 a 840 bene 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 molto bene dai ragazzi continuate anche voi a mettere like a questa fantastica unica diretta ma vedo che state salendo anche in diretta siamo a 1000 1000 like ottimo 1100 78 persone in diretta 80 beh io volevo chiudere sulla diretta ma a questo punto dobbiamo lasciarlo attiva tranquillo a te te conoscono solo sempre per ma com'è sul suo calendario l'immagine è collato non ti fa vedere da dietro e ti riconoscono ormai il tuo sederino è il più famoso del mondo è diventato più famoso di quello di Belen dai ragazzi su 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 1400 like 87 persone in diretta qua andiamo dai 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 non chiudiamo più la diretta mi avete convinto continuiamo a andare in diretta bene 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 andiamo dal nostro friend Gianluca che ci racconta i segreti del mestiere lui viene da generazione di battitamiera nonno bisnonno tutti i battitamiera ragazzi guardate ormai abbiamo perso diciamo eh non ci sono più questi artigiani una volta che lavorano addirittura con attrezzatura proprio da autore Alessandro buonasera a te ragazzi chi c'è collegato andiamo a salutare qualche città dai qualche città chi c'è collegato dai su su grande Alessandro qualsiasi cosa ci siamo eh se ti servono consigli accessori ricambistica noi ci siamo eh Antonio buonasera Adolfo buonasera Roberto buonasera ragazzi in basso a destra condividi la diretta andiamo con la condivisione di questa fantastica diretta ah l'hai levato al calentario eh sì per forza e no qua ragazzi sentite che si lavora con la musica di Natale eh sì Salvatore vero vero si è bloccata ammaggia Pippo 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 Luli buonasera salutiamo vacanze di Gallipoli Salvatore buonasera beh la squadra non l'hanno fatto fa l'hanno fatto fa l'hanno fatto fa l'hanno fatto fa mannaggia non esistono più i professori una volta noi siamo meccanici non carrozzieri cioè abbiamo solo quella che c'è la mia con lì che è pure rotta ma questa a casa faccio i dati e non c'è questa a casa dai ragazzi siamo a 2500 like dai dai continuiamo andare in diretta con voi con voi fateci sognare dai andiamo a salutare chi c'è collegato le città le città voglio salutare qualche città ragazzi caro salvatore hai ragione ma io non sono un battilamiera io io sono diciamo l'anima marketing l'anima web dell'azienda i lavoratori sono loro ragazzi sono loro l'anima caro Alessandro e chi può dirlo bisogna vedere la macchina lo stato la conservazione il restauro da lì si può valutare da lì si può valutare salutiamo Roberto buonasera franchino buonasera lupo buonasera grande Roberto bravo mandaci le foto facci vedere la tua auto siamo curiosi ciao Antonio ciao Giuseppe Giovanni buonasera grazie franchino che ci ha messo mi piace ragazzi stanno arrivando tanti like ma ricordiamo che oltre ai like ci vogliono le condivisioni ragazzi in basso a destra condividi la diretta condividiamo questa fantastica diretta e andiamo a premiare tutti coloro che lo faranno i follower migliori ragazzi saranno premiati saranno premiati come abbiamo fatto anche nelle passate dirette allora stai controllando nonno dici dici ti piace vabbè hanno fatto un buon lavoro rimasto poco rimasto da casa stanno detto ci vuole un cavo un cavo di massa sono finiti no il cavo della Corentini che hanno degli altri non noi eh sì ma lo sa di Gianluca dove dice andarlo a prendere la perché gli manca un pezzo così di chiedo hanno le portazioni che non smontano dagli altri però quello non lo posso prendere quello devo prendere a metraggio sì sì a metraggio però vado è un'aggiunta devo prendere se ne fanno aggiunta bene ragazzi allora ciao Cosimo Alessandro andiamo dai siamo a quasi 4000 like molto bene molto bene vi siete svegliati vi siete svegliati la diretta sta prendendo piede sta prendendo piede come si suol dire sta prendendo piede ottio alla capoccia ah vai proprio di mazzetta andiamo andiamo a vedere che fanno questi ragazzacci dai ragazzi di like su 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 andiamo di like 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 top top salvatore dai lucifero antonio cosimo bravi bravi vedo che stai mettendo salvatore tanti like bravo salvatore anche il franchino molto attivo nella diretta ragazzi in basso a destra anche le condivisioni salvatore salvatore amico mio caro che ti devo dire che ti devo dire che ti devo dire qua abbiamo il nostro Gianluca che è lui l'artista di questi macchinari che per me sono come ti posso dire non so neanche che sono ecco ecco infatti io pensavo fosse quello per la tappare bottiglie ma tu ma non la pianti tutti e due i che stanno aprile bar che stanno una vita una vita fiorella buonasera a te buonasera ciao franco quanti like che stanno piovendo eh ragazzi qua c'è il franchino che è un follower numero uno quasi sta guadagnando lo scettro eh ragazzi abbiamo già a fine serata diremo i due vincitori sta sera due due ne mettiamo in paglio due di due premi due gadget quindi a fine serata premeremo due 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 follower Alessandro caro la tua è una otto bulloni quindi no una quattro aspetta ecco Salvatore ci sta dicendo che lo conosce come se per svitare il rullo dicevo la vittatura destra e quella sinistra Salvatore ecco adesso ho capito che dici Salvatore help 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 ragazzi siamo 6.000 like ottimo Alessandro tornando a noi eh mandami qualche foto dai anche sulla pagina facebook affari sbulonati sul messenger di affari sbulonati mandami qualche foto e ti dico quanto può valere la tua auto senza foto non posso farti una quotazione Vincenzo io vedo l'amico il nostro Vincenzo vi scuso se non sbaglio è un follower che nei giorni passati ha vinto i nostri gadget quindi un testimone che noi effettivamente premiamo i nostri follower bene bene Vincenzo grazie a te Alessandro Salvatore ecco il nostro amico Vincenzo sì sì vedi mi ricordavo il tuo nome caro Alessandro siamo a Roma ma ci trovi sulla pagina facebook di affari sbulonati ci trovi su youtube ci trovi su instagram ci trovi su google abbiamo una fantastica affari sbulonati punto com adesso vi daremo tutti i nostri recapiti ragazzi adesso vado a prendere il bigliettino il bigliettino il bigliettino la visita e vi daremo tutti i nostri recapiti tutti i nostri recapiti ragazzi andiamo 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 vediamo il nostro bigliettino, il nostro bigliettino, il nostro bigliettino ragazzi in modo che prendete carta e penna e vi appuntate i nostri dati ragazzi, è importante eccoci ragazzi, carta e penna, fate uno bello screen dello schermo e prendete i nostri dati questi sono i nostri dati fate un bello screen dello schermo ragazzi, ecco il ciao ragazzi, ecco il ciao, il nostro ciaetto i nostri sedili fatti con il ciao, il nostro arretamento vintage dai tra qualche minuto andiamo in chiusura ragazzi, andiamo a premiare i vincitori i vincitori della diretta, i nostri vincitori della diretta di questa sera il nostro amico Vincenzo l'ha già vinto dalle scorse serate, vedo che stanno chiudendo le luci ragazzi, significa che tra pochino si chiude e si va a casa ragazzi e tra un pochino diremo chi ha vinto la diretta, abbiamo due, ricordiamo che abbiamo messo in palio due fantastici gadget due, cinquecento, due, cinquecento, si quindi tra un pochino diremo chi ha vinto la diretta, adesso andiamo a vedere diciamo coloro che hanno interagito di più con noi e li andremo a premiare nel frattempo continuate ragazzi con i like mi raccomando grande salvatore, il califfone me lo ricordo, il califfone me lo ricordo ragazzi 8.300 like dai dai raggiungiamo quota 8 e 5 raggiungiamo quota 8 e 5 nel frattempo sto vedendo diciamo chi premiare perché stasera si è stati in tanti eh si è stati sempre in tanti, madonna non tu sei brutto madonna mia bene ragazzi 8 e 4 siamo quasi a 8 e 5 eh, siamo quasi a 8 e 5 di like ricordiamo che stasera premeremo due follower, due, due i migliori, i migliori, i migliori, i migliori, i migliori, gli premeremo ragazzi tra un pochino diremo chi ha vinto un po' di suspense un po' di suspense bene ragazzi dai in chiusura allora il nostro Cosimo Antonio Passaro è uno dei vincitori ragazzi Cosimo mandami per whatsapp i tuoi dati e domani ti spedisco il gadget caro Cosimo ti ho visto che hai messo like hai condiviso come un pazzo la nostra diretta e quindi ti meriti il nostro gadget caro Cosimo vedi questo naso un gadget vai prenditi i nostri il mio recapito Fabio Salvatore ci abbiamo tutto FL ce ne abbiamo di tutti i gusti di tutti i gusti ne abbiamo anche di N abbiamo tutti i modelli che possono che la Fiat ha costruito di 500 eccola una F ragazzi quindi Cosimo è il vincitore bene Cosimo hai visto qui l'altra sera è proprio un numero uno mandami tutti i tuoi dati dai dai Cosimo e poi andiamo a premiare anche 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 adesso mi sto vedendo un po' tutti i vostri commenti andiamo a premiare coloro che sono stati più attivi di tutti dai ragazzi dai dai su 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 un altro sforzo 8 e 6 quindi ricordiamo che Cosimo il nostro Cosimo stasera è stato il numero uno ma non solo Cosimo andiamo a premiare anche andiamo a premiare anche 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 il nostro mascello Ostuni andiamo a premiare anche il nostro Salvatore 85 che sono coloro che questa sera si sono si sono si sono si sono si sono qualificati diciamo così tra i nostri migliori follower ragazzi questi sono i nostri dati mandatemi il messaggio e vi mando domani vi spedisco i gadget fabio 393 45 33 7 6 8 sito internet e mail facebook instagram youtube tik tok ragazzi siamo da per tutto siamo da per tutto siamo da per tutto e penna prendete i nostri dati dai che andiamo in chiusura 8.900 like 9.000 chiudiamo 9.000 like chiudiamo la diretta e ringraziamo tutti per essere stati con noi questi buoni buoni 25 minuti ottimo grazie ragazzi 9.000 like ottima serata ragazzi un ottimo traguardo grazie a voi ringraziamo tutti quanti e mi raccomando coloro che ho nominato mi mandassero un sms un whatsapp una mail e domani spedisco i gadget come vedete è facile vincere con noi basta essere presenti condividere mettere like basta poco ragazzi e noi premiamo tutti premiamo bene ragazzi una buona serata io vi saluto e vi ringrazio ciao ragazzi ciao